buongiorno sono liliana calestru sono rumena sono in italia dal 1994 ultimamente ho sviluppato l'idea di un progetto insieme con le mie altre due colleghe siamo arrivati alla camera di commercio cercando proprio informazioni sull'apertura di un'impresa di questo tipo nostro mediazione interpretariato e anche traduzione qua abbiamo conosciuto tantissime persone che ci hanno chiarito abbastanza le idee e mi viene proprio da dire che c'è stato proprio una specie di rapporto tra genitori e neonato no perché è proprio questo che ho in mente quando penso alla camera di commercio cioè noi siamo proprio in fasce come dei neonati che abbiamo bisogno proprio di essere un po aiutati e anche capire quando magari cadiamo cosa ci dobbiamo aspettare e dove dobbiamo ancora lavorarci il nostro rapporto con tutte le persone è stato proprio molto molto positivo io consiglio a tutte le persone con background migratorio di rivolgersi proprio alla camera di commercio perché le persone sono proprio molto molto accogliente e sono veramente proprio interessati ad aiutare chi ne ha bisogno e il progetto futuro è stato molto interessante perché ci ha accompagnato diciamo in tutte le fasi di un'idea di una nuova impresa e anche qua siamo proprio stati accontentati su tutte le nostre domande e su tutte le nostre insicurezze siamo ancora in lavoro perché ci mancano ancora delle ore delle parti da definire però comunque penso che è un progetto che può essere comunque raccomandato anche agli altre persone proprio che hanno intenzione come me di straniere che hanno intenzione proprio di far qualcosa di nuovo e di integrarsi in modo diverso diciamo in italia o a torino